Presidente Marsiglio in 13.000 allo stadio Adriatico per Pescara Catanzaro, peccato il risultato ma una grande festa di sport. E' mancata solo la vittoria però è vero, grande festa di sport, è un pubblico, è un campo che merita davvero la promozione e quindi ci sono tutte le carte e tutte le possibilità perché quest'anno si possa tornare in Serie B.